Ecco, avete visto? La nostra contro copertina con questa mano che mixa la musica e vi chiederete, ma parliamo di tecnologia, di robot, di futuro, di tecnologia? Sì, parliamo di tutte queste cose, ma parliamo anche di voglia di andare avanti, di determinazione, di grande forza e di grande cuore. Perché quella mano che avete visto non appartiene a un robot, come potrebbe sembrare, ma è un arto bionico e appartiene ad una persona in carne e ossa. Questa è qui con noi, Michele Specchiale, benvenuto insieme alla moglie Daniela Vegliante. Voi vi amate definirvi la coppia bionica perché entrambi avete delle protesi. Tu, Michele, in particolare hai perso il tuo braccio sinistro tanti anni fa, vent'anni fa, in un incidente in campagna. Un momento che tu non ami ricordare, non vogliamo ritornarci. Ma ti volevo chiedere, quando è stato il momento che tu, dopo la rabbia, il dolore, la sofferenza, hai capito che avevi dentro di te la voglia di andare avanti? Intanto salve a tutti. Niente, io sono, come tante persone, uno degli sfortunati che ha avuto un incidente sul lavoro. E quindi la determinazione ad inseguire comunque sempre il proprio sogno mi ha portato ad essere ciò che oggi sono. Sono un DJ. Ecco, tu sei un DJ perché tu sei l'unico DJ al mondo con un arto bionico. L'abbiamo appena visto. Sì, sono questo qua che sto indossando. E quindi utilizzo una mano, un braccio, meglio ancora, un braccio bionico in console per poter suonare, mixare, screcciare. Ricordiamo che, ahimè, non ho la sensibilità sulle dita, quindi il tutto viene un po' visto semplice, ma nello stesso modo, non avendo la sensibilità, uno magari non riesce a fare, cioè diventa un qualcosa più difficile. Ecco, ti stiamo vedendo in questo momento all'opera, alla console, ma come funziona l'arto bionico? Qual è il meccanismo? Allora, il meccanismo in parole povere parte dall'invasatura. L'invasatura, per quelli che non lo sanno, è quella parte che è a contatto con la pelle. Una sorta di bicchiere, così, dove il moncone, il pezzettino di braccio che mi è rimasto, entra dentro questa invasatura. Ma i comandi come partono? I comandi partono che nelle pareti dell'invasatura ci stanno degli elettrodi dove sono posizionati, merito dei tecnici, in delle posizioni un po' strategiche che vanno a comunicare con gli impulsi che noi diamo. E quindi, in base al tipo di impulsi, la protesi percepisce se deve alzare o abbassare il gomito, oppure se deve aprire e chiudere la mano. Poi la bravura sta nel richiamare delle prese che vengono programmate in primis. Io, in questo caso, la utilizzo in console, quindi ho delle prese, dei movimenti che mi permettono di suonare in console. Ecco, da vent'anni fa, quando tu hai avuto questo incidente, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Sì, vent'anni fa... La protesi era molto più elementare. Da qui a vent'anni la tecnologia è andata avanti, ma comunque è andata avanti per qualsiasi genere di cosa, dalle automobili che adesso guidano da sole, anche in questo caso, anche le nostre protesi. E questa è una tecnologia che aiuta. Fra l'altro, tra i video che tu mi hai fatto avere, ce n'è uno invece in cui tu non c'è questa mano con le dita, ma c'è una sorta di tenaglia, quindi tu hai diversi utensili a disposizione. Sì, io sono fortunato che ho a disposizione. Ecco, qua, lo vediamo. Tu con questo lavori? Sì, io lavoro con macchina controllo numerico, quindi nel lavoro ho bisogno di una mano che sia un po' più robusta, una mano che mi permette di afferrare magari dei pesi un po' più pesanti e quindi con una presa sicura e stabile. Con quel tipo di mano io riesco ad afferrare anche oggetti un po' più sporchi e quindi riesco a fare anche tantissime altre cose. O diciamo una sorta di valigetta dove stanno tutte alloggiate lì e quindi in base a quello che devo fare tolgo la mano, la mostro, si ruota la mano e quindi si stacca e quindi prendo un'altra mano dentro la mia valigetta e la indosso per l'occasione. Ecco, la cosa bella che colpisce di voi è che voi, come dire, non c'è più la vergogna di esporre una protesi. La tua per esempio è coloratissima, quella di Daniela che non vediamo perché è sotto il tavolo. Daniela, tu hai perso entrambe le gambe in un incidente quando eri piccola e addirittura decorata, no? Quindi c'è anche adesso la voglia di non vergognarsi, ecco, di far vedere le protesi. La tua è appunto coloratissima. Sì, la mia, come tutti sanno, tutte le mie protesi sono tatuate, sono colorate, anche quelle di mia moglie. Stiamo cercando di portare, diciamo, la vita quotidiana un po' più allegra. Delle solite protesi rosa, le solite protesi che comunque tutti quanti partiamo da questo genere di protesi perché magari con tutto il rispetto tra cui ci sono passato anch'io ho preferito la strada del color carne. E quindi man mano, all'inizio, come penso che tutti quanti facciano così. Poi magari con l'andare del tempo, perché l'unica medicina in questo caso è il tempo, ti fa capire tante cose, ti fa magari accettare la disabilità vista in un'altra ottica, in un qualcosa che magari all'inizio non si vede. Poi magari uno dice, ma che me ne frega tanto, è così, quindi mettiamoli in mostra. Anzi, posso dire che sono orgoglioso di mostrare la mia e mia moglie in questo caso la sua protesi con tutti questi brillantini, questi svaroschi. Sì, non ve la facciamo vedere perché, diciamo, è disagevole, però appunto è tutta, diciamo, natalizzo, con delle paillette, dei brillantini. Quindi, tra poco parleremo anche del vostro impegno nel sensibilizzare sia la gente, ma anche chi subisce degli incidenti e quindi si ritrova a dover fare a meno di un arto. Ma intanto volevo continuare a raccontare la vostra storia, che appunto passa anche da questo grande amore per la musica. Tu eri un musicista prima di perdere il braccio. Ero un musicista che suonavo il clarinetto, poi ho avuto l'incidente e non mi ha permesso più di poter suonare questo strumento, che comunque si suonava con due mani. Sono passato con la tromba, sempre strumento a fiato, e poi la passione, l'amore per la musica da DJ. Ho abbandonato questi tipi di strumenti e mi sono dedicato essenzialmente alla console. Sto cercando di terminare il mio studio di produzione dove ho anche prodotto qualcosa. E quindi niente, la musica comunque la porto sempre nel mio cuore e ne vado sempre avanti. Daniela, tu sei sempre accanto a Michele, sia a casa, voi avete due splendide bambine di tre e di nove anni che vi aspettano. Lui è un siciliano, non l'abbiamo detto, un siciliano originario di Gran Michele, che però poi ha scelto di andare in Vallo del Diano per stare vicino a te, dove avete messo su casa. Anche per te, ecco, la vita quotidiana, tu hai portato avanti due gravidanze con due protesi. Non è stato sicuramente una cosa facilissima? Non è stato facile, però posso dire che l'ho superata, anche perché solo gli ultimi mesi alla fine il peso si faceva sentire, però non mi ha dato nessun problema. E anche a casa? Figurato, ho portato con le protesi, quindi non... Parto naturale? Parto naturale, tutti e due, sì, con le protesi. Ho assistito. Da buon papà tu hai assistito. E anche a casa, voi vivete in una specie di fattoria alla periferia della città, so che avete un orto, eccetera. A casa tu fai quasi tutto da sola. Sì. C'è un video in cui ti vediamo a te impegnata nelle faccende di casa. Sì, faccio tutto da sola, già dall'inizio, nel senso che non c'è nessuno che mi aiuta, oppure la signora delle pulizie, non c'è nessuno a casa. Faccio tutto da sola, faccio qualsiasi cosa. Da cucinare, stirare, badare le bambine, tutto io. Quindi completa autonomia. Sì. E tu hai spesso raccontato, come vi siete conosciuti, che è stato un colpo di fulmine. Dove vi siete conosciuti, fra l'altro, è proprio il centro dove entrambi provavate le vostre protesi. Sì, noi stiamo parlando del centro Inail Vigorso di Budrio, dove questo centro, per quanto a noi ci riguarda, oltre a costruirci le nostre protesi, ci ha regalato anche il nostro incontro e quindi il nostro amore. Questo è un centro ad hoc in Italia, che si trova a Bologna, dove un giorno stavo provando le mie protesi di routine, dove sbuca nel corridoio questa ragazza bionda. Fai c'è una scommessa con un mio amico, ho detto questa ragazza io me la sposo. Subito. Subito. È stato proprio un colpo di fulmine. Il mio amico, sì, ma cosa vuoi a dire di qua e di là? Comunque il fatto sta che noi abbiamo passato tantissimo tempo assieme, lungo i corridoi, provevamo le protesi assieme. Ahimè, fino al giorno in cui dovevamo separarci, perché io ero, sono siciliano, lei è di Gran Michele e lei è di Salernitana, di Padula e quindi ci siamo separati. Quindi telefonate di giorno, di continuo, non sapevamo come fare perché è stato proprio un colpo di fulmine. Fino al punto che mi sono preso le valigie, ho detto a mio papà, papà devo andare a trovare un amico. Ma dove vai? Di qua, di là. No, vado a trovare un amico. E me ne andai, mi misi in macchina, non avevo mai uscito la Sicilia da solo. Andai a Padula e siamo stati una settimana, penso comunque assieme, e sono ritornato di nuovo a casa, di nuovo. E lì avete capito che non vi sareste più lasciati. E lì abbiamo capito che non poteva andare avanti così, a via di telefonate, abbonamenti di qua, abbonamenti di là, non sappiamo quante schede abbiamo consumato. E l'amico è diventato amico. E poi era l'amica, abbiamo anche il video del vostro matrimonio, vi siete sposati nel 2007, e Daniela, per te è stato anche il coronamento di un sogno. Sì, il mio sogno era quello di sposarmi, di avere dei bambini e di accudire la casa, infatti si è realizzato. Si è realizzato anche con queste parentesi di mondanità, fate le feste, i DJ, tu sei il DJ ufficiale di tutta la comunità parolimpica. Sì, vengo chiamato dal Comitato Parolimpico per le loro manifestazioni, assieme a questi big dello sport, degli atleti importanti che abbiamo in Italia, da Bebevio, da Zanardi, da Monika Contrafatto. Ne parleremo tra poco anche di Bebevio, intanto ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ecco, siamo di nuovo in studio con la coppia bionica, Michele Speziale e Daniela Vigliante, la moglie, coppia bionica perché entrambi avete delle protesi, degli arti bionici. Stavamo parlando anche del vostro impegno come testimonia d'accezione per tutta la comunità del mondo degli atleti che hanno delle difficoltà, della disabilità. Tu ti sei dedicato più alla musica che allo sport, però hai avuto anche occasione di incontrare un'altra testimonia d'accezione, Bebevio. Che impressione ti ha fatto? Anche lei è una persona così come appare, piena, carica di energia e di voglia di vivere? Sì, Bebevio, assieme anche a tanti altri atleti che abbiamo in Italia, sono proprio dei guerrieri dove si è dimostrato con tutte le medaglie che hanno portato a casa, da Bebevio, Monica Contrafatto e sono fortunato che suono per il Comitato Paralimpico dove c'è un magari... Ti fai ballare tutti! Faccio ballare proprio tutti gli atleti del Comitato Paralimpico. Vengo chiamato sempre da dove vi è una manifestazione ultima, siamo stati a Padova, nel Festival della Cultura Paralimpica e quindi sono stato onorato ad essere immesso assieme a questi big che abbiamo in Italia. Vi considero dei guerrieri perché comunque hanno dimostrato con la loro capabilità e la grinta tutto ciò che abbiamo visto, tante medaglie d'oro, tante medaglie d'argento. Soprattutto il fatto di superare la disabilità come fate anche voi, tra l'altro tu sei, anche tu un personaggio, diciamolo, hai più di 20.000 follower su Instagram. Sì, ho tantissimi ragazzi magari che su Instagram mi chiedono come faccio a fare un determinato movimento oppure ultimamente sto aiutando un ragazzo che mi ha chiesto come riesco ad allacciarmi proprio le scarpe anche utilizzando una sola mano. Tutto ciò mi riempie il cuore. Quindi anche istruzioni pratiche, concrete, a volte c'è voglia di sapere. Facciamo magari dei piccoli video dove io materialmente faccio vedere qual è il movimento da fare affinché si riesce a fare il fiocco e quindi ad allacciare la semplice scarpa. Questo mi ha portato a fare anche una piccola iscrizione al Guinness World Record, chissà mai magari la cosa non piace e entro a far parte di questa cosa. Mi piacerebbe entrare in questo mondo, tu hai fatto le selezioni per alcuni talent show e questo è uno dei tuoi desideri, dei tuoi sogni, no? Sì, ho fatto tantissimi casting da Italia's Go Talent a Tossic e Vales, però comunque ci stanno tantissime persone che vogliono entrare in questi casting. Parlo di tantissimi, proprio tantissimi che c'è sempre qualcuno magari più bravo e quindi magari però... Non è capitato fino adesso. Non è capitato, però il piacere e quel gusto... Sicuramente avresti la voglia e anche il carattere, la personalità per partecipare. Sì, 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 questo è un mio piccolo sogno nel cassetto, però chissà, magari più in là non ci riprovo a fare questa iscrizione. E beh, fra l'altro tu non hai l'unico sogno che hai, hai anche altri sogni, per esempio quello di produrre un disco. Sì, sono un DJ producer dove già ci sta un mio disco, DJ Miki Bionic, Everywhere, con la cantante Maiuri, dove chiunque lo può ascoltare lo può seguire su internet, su tutti i portali di musica. Daniele, tu hai un sogno che è rimasto non esaudito e che vorresti realizzare? Sono stati tutti esauditi? Tutti esauditi. La famiglia e le tue figlie. La famiglia, la casa, il matrimonio e quindi... E questo bell'amore che vi unisce da tanti anni. Ho letto anche che voi, appunto, per esempio in spiaggia, a volte tu togli la protesi, la appendi all'ombrellone e vengono i bambini a chiedere ma che cosa è questa cosa? E quindi è anche un modo per entrare in contatto con la disabilità, a far capire che non c'è niente di strano. Sì, tutto ciò ci riempie comunque il cuore di gioia perché magari il bambino che non sa cos'è questa cosa, cosa serve, magari il mostrare, la nostra protesi magari colorata, a questi bambini che comunque è un mondo nuovo. Quindi l'informazione anche ai bambini e sia magari a tutti coloro che hanno avuto questo intoppo di vita. Come succede? Noi spesso veniamo chiamati magari da persone che o hanno un amico, magari sono loro in primis a chiederci come facciamo, come si può fare a superare la cosa. Cerchiamo di aiutare tanta gente a vedere la disabilità in un'altra ottica. Aiutiamo tantissime persone a superare la cosa dove spesso ci rechiamo magari negli ospedali e mostriamo materialmente le protesi perché le persone normali non sanno che esistono queste protesi che facilitano la vita. Non te la dimenticare qua. No, non me la dimentico, non me la dimentico. E tra l'altro hanno un costo, insomma, considerevole. Hanno un costo pazzesco e questo tipo di mano comunque è molto delicata, quindi sto molto attento. Niente, noi aiutiamo tutte quelle persone che magari ci chiedono un piccolo aiuto e noi lo facciamo con tutto il cuore. Ci seguono sui social, su Instagram comunque sono DJ Mickey Bionic, dove possono vedere un po' le pazzie che faccio, magari giocare con la disabilità, magari scherzarci un po' su perché alla fine non c'è nulla di male nel giocarci un po' su. Noi l'abbiamo presa così. L'abbiamo vissuta e superata. Certo, è proprio questo essere anche così colorate e stravaganti. Ma questa, se vuoi, la puoi rimettere. Sono in arrivo delle altre protesi ancora più avanzate tecnologicamente? Sì, stanno arrivando tra cui sicuramente il 22 di aprile, saliremo al centro protesi Inail. Anzi, colgo magari di spendere due paroline per questo centro che tutti quanti, dai tecnici magari alla donna delle pulizie, alle cameriere, alle bariste, tutti quanti combinati fra di loro con la loro professionalità riescono a costruire una protesi sensazionale al paziente che la chiede. Ma qual è la prossima frontiera delle protesi? Tu adesso con questa mano puoi articolare, aprire le dita, chiuderle, manca solo il tatto. Però non abbiamo il caffè, ma poco fa abbiamo preso un caffè. Tu puoi bere, puoi fare tutto. Manca il tatto. Ecco, la prossima frontiera qual è invece? Si va verso questa della sensibilità? Sicuramente sarà la sensibilità comunque sulle dita per riconoscere il caldo, il freddo, ma comunque già si sta lavorando tantissimo su questa cosa. E poi di costruire una protesi che sia proprio armoniosa nel rispettare i movimenti di una mano normale. Questo il centro protesi sta sviluppando, sta facendo tanti studi su questo tipo di mano e anche che sia una mano accessibile, che non abbia dei costi molto elevati. Quindi noi ogni volta che andiamo in questo centro INAIL ci sembra di stare proprio in famiglia perché comunque è un centro a cui noi dobbiamo tanto. Certo. E voi scherzate molto anche sul fatto di vivere in famiglia. La sera voi vi smontate e le nostre bimbe sono abituate a vedervi, no? Come è la sera prima della buonanotte? Cosa strana perché comunque le nostre bimbe sono abituate a vedere la mamma magari senza le gambe oppure il papà senza un braccio magari quando ci smontiamo materialmente. Le buttiamo sparpagliate un po' per terra, un po' qua, un po' là. Quindi per le nostre bambine che sono nate e ci hanno sempre visto, questa è una cosa normale, il normale magari c'ho la piccolina che deve giocare magari con questo pulsantino che fa rumore e quindi si passa magari quei dieci minuti, un quarto d'ora a prendermi in giro e schiacciare sempre di continuo. Le nostre bambine ormai sono abituate, anzi... Però quando hanno visto la mia? Quando hanno visto la tua? Quei bambini, wow che bella! Tipo siamo stati anche al ROMCAP a Roma, un avvenimento di robotica dove tanti ragazzi all'università dove tanti ragazzi preparavano il loro robottino di robotica di qua e di là. Sono stato un ospite dove ho aperto gli spettacoli, quindi i ragazzi dell'università hanno visto la robotica proprio impiantata sull'essere umano. Quando siamo arrivati proprio c'è stato proprio un puttiferio che tutti quanti volevano vedere e toccare come la robotica fosse tutta una cosa con l'essere umano. Ho aperto gli spettacoli, ho aperto in aria la mia mano buona e ho suonato e mixato interamente solo con una mano. E non la chiamiamo mano buona e mano cattiva, tutte le mani buone. Sì, diciamo che la loro reazione nel vedere, ma questo sta alzando la mano buona in aria, adesso cosa fa? E io ho dimostrato che comunque riesco a suonare anche interamente con una sola mano in console. Daniela, invece le tue bambine cosa ti dicono? Rispetto appunto alla tua vita quotidiana, ti danno una mano, sono sempre vicino a te? Sì, c'è la grande che sta sempre vicino, mi aiuto, oppure va, mamma dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo, ti prendo, quando era piccola la seconda bambina mi aiutava, ti vado a prendere il pannolino, ti vado a prendere qualsiasi cosa. No, tutto... Una famiglia. Dicevamo, tu sei siciliano, per le feste torni sempre a casa, a Gran Michele. Nel cuore ho questa terra meravigliosa e quindi noi quando abbiamo un buchino di ferie, di queste cose, scendiamo sempre giù in Sicilia nella mia terra, perché comunque la porto sempre con me. L'ho lasciata, tra virgolette, non voglio utilizzare il termine abbandonata, l'ho lasciata per amore, quindi ogni volta siamo sempre contenti, anche la mia famiglia, le mie bambine sono felici, ogni volta che dico dai scendiamo giù in Sicilia e quindi sono contenti. Ecco, una parola che torna spesso nei vostri discorsi è normalità, questo di condurre una vita normale, è una parola che ritorna spesso. La normalità per me è tutto ciò, noi abbiamo anche una casa normale, non abbiamo abbattimento di barriere, perché noi... Abbiamo le scale. Abbiamo le scale, facciamo più di tutto, abbiamo una casa normale. Noi con il modo di come ci siamo organizzati, anche lei, si è organizzata alla grande, nel gestirsi un po' le bambine, a curare la casa e quindi la nostra organizzazione permette tutto ciò. Ma questo comunque dipende sempre, perché uno magari non bisogna rendersi nelle cose, bisogna sempre inseguire il proprio sogno. Se mia moglie non riesce per esempio a fare il letto oppure a spazzare in un modo, talmente ci gira attorno, talmente ci fa che riesce proprio ad avere il prodotto... Il risultato? Il risultato finito, non è... Ma per esempio io ho le protesi, però mi sento normale. In me è normale. Quindi Michele è più grintoso, tu sei più dolce, ma alla fine sei tutti e due, due guerrieri. Sì, sì. Il succo è quello di non mollare mai, quello di non arrendersi, di inseguire sempre il proprio sogno, malgrado la vita, ha messo il bastone tra le ruote. Io dico sempre... Io dico sempre che anche se vi è una curva sul cammino, non bisogna arrendersi, bisogna magari fare quella curva e inseguire in altri modi sempre il proprio sogno che uno ha nel cassetto. L'importante è sempre raccontarlo, che siamo qua a raccontarlo. Certo. Un augurio, un desiderio per questo anno che sta iniziando? Ma il mio augurio è che io ho cambiato da poco lavoro e quindi... Qual è il tuo lavoro intanto? Non l'abbiamo detto. Io sono un operatore macchina a controllo numerico, sono un disegnatore meccanico, oltre ad essere ragioniere perità aziendale, quindi mi occupo di macchinare a controllo numerico. Il mio augurio è di trovarmi benissimo nel lavoro, come già si sta facendo vedere, e niente, magari di comprarmi una macchina nuova. Avete fatto voi anche un post, augurando tanti auguri per questo nuovo anno. Siete due bellissime persone, una bella coppia, siete non solo il sintomo di come si può reagire appunto alle disavventure della vita, ma anche di un legame forte che aiuta a superare, perché questo vi ha aiutato molto a superare la disabilità e le difficoltà, soprattutto all'inizio. Sì, io non sono triste perché la vita mi ha dato tutto ciò. Anzi, guardandola per bene, è stata la disabilità che mi ha dato il modo di incontrare mia moglie. Anche lei, se non avrebbe perso le gambe, non ci saremmo sicuramente incontrati. Quindi, tra virgolette, dico grazie a questa disabilità che mi ha permesso di incontrare mia moglie e di avere tutto ciò che io oggi sono comunque. Allora, grazie, grazie Michele, grazie Daniela, grazie di questa testimonianza di grande forza, di determinazione e di come si può reagire alle difficoltà con la forza e con anche l'amore che vi unisce. Grazie a tutti, grazie anche a voi che ci avete seguito. Grazie a tutti.